E' stata una grandinata estiva di portata eccezionale per l'Abruzzo, quella che durante il nubifragio di ieri si è abbattuta su tutta la zona costiera e su alcuni comuni delle aree interne, seminando il terrore e causando danni ingenti. Agricoltura e attività produttive in ginocchio e famiglie in gravi difficoltà per tetti rotti, vetture danneggiate, senza dimenticare le persone ferite che hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici negli ospedali a Pescara e a Lanciano. Questa mattina Pescara ha incontro in municipio dove, come in altri comuni, è stato aperto il COC, il centro operativo comunale. Il presidente della regione Marco Marsiglio ha incontrato gli amministratori di tutti i comuni danneggiati dal maltempo, insieme a presidenti delle province, rappresentanti dei vigili del fuoco e di tutte le forze impegnate nel fronteggiare la situazione, la presenza anche dei parlamentari abruzzesi per concordare le iniziative necessarie per ottenere dal governo centrale il riconoscimento dello stato di emergenza per calamità naturale. Abbiamo riunito i sindaci e i presidenti delle province interessate, insieme alla protezione civile e dipartimenti, perché inizi subito, immediatamente, una ricognizione, un censimento di tutti i danni subiti. Da questa mattina è aperta la piattaforma telematica della protezione civile, nella quale tutti i comuni e tutti gli interessati devono inserire i dati e le stime a partire dalle somme urgenze degli interventi che devono essere fatti e con questo elenco noi appunto chiederemo al governo, io sono sicuro che il governo non potrà non riconoscere l'eccezionalità dell'evento, a memoria d'uomo non si ricorda una grandinata di questa violenza, è un flagello che ha colpito dall'Emilia Romagna fino al Molise, con una coda persino fino in Puglia, quindi non riconoscere l'eccezionalità, la gravità di un evento del genere sarebbe davvero impensabile. Mentre Coldiretti parla di milioni di euro di danni per l'agricoltura, il dirigente del Dipartimento di Protezione Civile della regione Silvio Liberatore fa il punto sulla situazione in Abruzzo. Quali sono le aree più colpite? Tutta la costa abruzzese è stata colpita, danni maggiori sono stati causati purtroppo dalla grandinata che si è manifestata in maniera importante soprattutto nel Pescarese e nella zona di Francavilla. Quelle che vi stiamo mostrando attraverso le immagini di Luca Corneli sono soltanto alcune delle tantissime auto e mezzi danneggiati dalla violentissima grandinata che ieri si è abbattuta sull'Abruzzo. E' bene però precisare che non sono compresi quelli a persone e cose per le quali si prevede invece che ci siano risarcimenti soltanto a coloro che hanno polizze assicurative. A Pescare le maggiori criticità sono state risolte, ha detto il sindaco Carlo Masci. E' stata una situazione emergenziale eccezionale, si parla di 120 mm di pioggia caduti in meno di un'ora, mai vista una pioggia così forte e soprattutto mai vista una grandine con chicchi grandi come palle da baseball che hanno causato danni a centinaia e centinaia di macchine. Poi gli allagamenti delle strutture pubbliche come l'ospedale o i danneggiamenti al tribunale. Insomma c'è stata una situazione veramente difficile che però devo dire è stata gestita nella maniera migliore perché la macchina organizzativa ha funzionato anche nell'emergenza più assoluta, cioè quando c'era un ubifraggio in atto che stava causando danni a tutte le strutture pescaresi. All'ospedale di Pescara, ricordato durante il vertice municipio l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, l'acqua ha invaso il piano terra della struttura ed è stato necessario fermare l'attività delle sale operatorie e poi riaperte dopo circa due ore di stop. Sempre ieri è tornata operativa la farmacia che era stata chiusa a causa degli allagamenti. Il presidio ospedaliero ha avuto qualche difficoltà, devo dire, proprio ieri. Abbiamo dovuto interrompere anche le attività chirurgiche perché c'erano delle infiltrazioni, però non si sono creati problemi nell'ambito sanitario in quanto l'attività subito dopo è ripartita. Per cui sarà il nostro compito adesso verificare ancora di più le norme per la messa in sicurezza dei nostri presidi. A Pescara in due parcheggi, quello dell'ospedale e quello interrato di via Ferrari, completamente allagati, sono intervenuti i subacquei dei carabinieri, nel timore che qualcuno si trovasse nelle auto e i sopralluoghi hanno dato esito negativo. Questa mattina al Parc Ferrari i vigili del fuoco e la polizia municipale erano ancora al lavoro per risolvere le criticità, mentre nella zona limitrofa i titolari dell'attività commerciale ed artigianale constatavano con grande amarezza i gravi danni. Abbiamo subito veramente un danno grave perché non abbiamo potuto panificare, abbiamo diversi forniture, bar, ristoranti che sono rimasti senza pane oggi. Adesso cosa farete? Adesso non lo so, io ho sentito delle voci, il sindaco ha chiesto a Marsiglio i risarcimento per i danni atmosferici. Io ci credo poco, a dire la verità, perché adesso tocca a noi rimboccarci le mani e ritirare su tutto.